Ciao a tutti ragazzi, vostro Lee bentornato in un nuovissimo Question Lee questa volta sto medio, vedete la voce posso tutto a posto allora passiamo subito alle domande Yuri Dragoni, Question Lee Lee cosa sono i gruppi di continuità e quando escono i video delle configurazioni grazie in anticipo sei un grande, grazie mille allora iniziamo subito dal video delle configurazioni ragazzi ci sto ancora lavorando perché devo trovare un bel sistema per rendere i video semplici da capire, veloci da caricare e aggiornabili cosa intendo per aggiornabili? poi capirete, ok? quando usciranno capirete comunque ci sto lavorando però non so dirvi quando usciranno non è tra mille virgolette semplice come un video di assemblaggio cioè fondamentalmente c'hai componenti metti la telecamera nel modo migliore possibile e registri e cerchi di far capire tutto quando invece si tratta di un video sulle configurazioni perché comunque non è che esiste ok, un modello di scheda madre ne esistono tanti quindi devo anche far capire perché quella scheda madre il rapporto quali da prezzo eccetera ok, cioè ok, questo poi, cosa sono i gruppi di continuità? praticamente sono dei cosi parecchio grossi e costosi quelli di qualità che all'interno hanno delle batterie ok? proprio terra a terra te lo dico praticamente quando va a mancare la corrente se tu hai attaccato il computer per dire il computer ok all'UPS l'UPS è il gruppo di continuità ti tiene il computer acceso ovviamente a seconda del vattaggio eccetera eccetera quanti minuti riuscirà a tenerlo acceso a che cosa serve per evitare di far spegnere appunto il computer improvvisamente invece stacca la corrente perfetto ho due o tre minuti di autonomia non lo so, poi dipende da quanto è grande l'UPS quanto consuma il computer eccetera eccetera ok, cacchio stavo renderizzando perfetto spegni magari perché si ha paura giustamente di perdere quel lavoro ok, stacca tutto salva spegni spegni del computer perfetto fondamentalmente questo è un UPS che poi lasciate stare che pulisce anche la linea elettrica eccetera eccetera vabbè, questi sono altri discorsi comunque fondamentalmente il gruppo di quantità fa questo cioè questo è che piccola cosina riguardo al prezzo ragazzi un UPS di qualità costa ragazzi un UPS di qualità costa costa cioè partiamo da ma proprio base 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 150 200 euro per un UPS serio di qualità quindi ragazzi costano gli UPS però se ne avete la possibilità prendetelo io anche se avessi la possibilità ne avrei già preso uno ma purtroppo no non ho questa possibilità Francesco Murgolo lì ti vorrei fare una domanda farra vabbè fatta credo già in precedenza cosa ne pensi dell'Asus 960 Strix PS una scheda video si lo so che è una scheda video cosa ne penso consuma pochissimo è una buona scheda video ma sinceramente andrei su AMD perché a quel prezzo trovi la proposta la 280 e simili di AMD che vanno di più quindi andrei su quello ok si consuma di più AMD eccetera eccetera però io andrei comunque su AMD sinceramente poi Adriano De Biasi ciò lì riguardo al problema precedente del precedente question lì quello della compatibilità delle G-Skill Trident X a 2400 MHz con ASRock Z97 Extreme 4 si mi ricordo allora ho sostituito allora le RAM con delle Ares da 1600 MHz e tra poco cambierò anche la scheda madre con una gigabyte Z97X Gaming 5 un nome più difficile non potevano farlo ci sono schede madre con nomi ancora più difficili il problema era infatti la MOBO ah perché le RAM nei sotto A1 e A2 non funzionavano mentre B1 e B2 si escludo di aver piegato i pin del socket perché ho controllato ed era tutto a posto inoltre ho installato la CPU con delicatezza escludevo fosse la MOBO il problema perché l'avevo già fatta sostituire perché pensavo fosse il problema dell'iniziale mal funzionamento del PC infatti inizio il problema era la CPU comunque il reso conto è la sostituzione di 3 kit di RAM 2 schede madri ed una CPU io sapevo che la CPU raramente è già difettata si però mamma mia è sostituito un sacco di cose io avrei fatto altre prove però un conto è dire cioè consigliare delle prove da fare come posso dire in video ecco magari avendo i componenti sotto mano avrei fatto delle altre prove ok che man mano provando provando ti vengono delle idee però mamma mia è sostituito un mare di roba spero che non ti sia costato nulla tutto ciò magari per la spedizione per rispedire indietro qualche prove spero non ti sia costato nulla e mi dispiace sinceramente poi fortuna che il PSU si regge in piedi si soni vabbè non si soni quindi lasciamo a perdere lascio a perdere nel senso che è un ottimo alimentatore non nel senso che è pessimo anzi poi non credo di aver assemblato male il PC visto che ho seguito la tua guida al dettaglio inoltre quando mi ci metto sono molto puntiglioso ragazzi si può essere puntigliosi quando si vuole quanto si vuole io stesso sono un maniaco tutto bello pulito preciso eccetera eccetera ragazzi ma anche a me un paio di sembolo sono arrivati rotti non ci si può fare nulla succede non è che ah vabbè però tu i semboli non so no i semboli si rompono uno un caso proprio di un sembolo che mi si è rotto tra mille virgolette famoso è il mio canale è il volante cioè il mio volante si è rotto l'ho riparato cioè io relativamente mio padre si è messo là ha aperto eccetera eccetera ha visto cosa era successo e poi è stato riparato però può capitare purtroppo cioè c'è gente che gli arriva la GPU e esplode cioè esplode la DNA fa boh però la GPU la prende la monta e manco si accende può capitare stessa cosa le RAM gli SSD succede ragazzi succede 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 poi volevo ringraziarti dell'aiuto d'Atomi nei question e volevo chiederti se potevo se me ne puoi escire approfittare della tua conoscenza per chiedere molti dubbi che ancora ho sull'hardware del pc grazie per aver la domanda ti stimo davvero tanto grazie mille allora prego per l'aiuto eccetera anche se io non ti ho aiutato niente perché da tutte le prove che hai fatto eccetera probabilmente sì c'era qualcosa di rotto anche se tutti quei cambi io non sono giustificati cioè tra i kit di ram è cambiata madonna mia addirittura pure la chip eccetera però vabbè lasciamo per ormai hai risolto sì hai risolto credo tra poco cambierà anche il scanner ok quindi non si sa nemmeno se è risolto effettivamente ma lasciamo per sì puoi approfittare dei question in maniera ovviamente non sozzona però puoi approfittare dei question per tutte le conoscenze cioè nel limite delle mie conoscenze io cerco di aiutare tutti e di rispondere a tutto quindi sì approfittane pure prossima domanda DX19 lì secondo te sono meglio le Honda ST o le Honda 3HX per qualità suono e microfono le Honda ST ma semplicemente per il fatto che si utilizzano i jack ma giusto per sì le 3HX hanno il controller e il cavetto USB se ben ricordo o cavetto USB e uno jack adesso non ricordo bene però le ST invece sì ricordo che sono solo jack quindi prendi quelle così se hai anche una scheda auto non hai problemi prendi quelle se ben ricordo dovrebbero essere addirittura lo stesso modello le cuffie cambia solamente la tipologia di connessione e le 3HX se mi sbaglio anche recensito sto facendo forse un po' di confusione comunque le 3HX possono anche essere connesse se ben ricordo alle console se non ricordo quali console eccetera comunque sul canale sicuramente troverete un video su questi modelli cioè proprio ve lo posso garantire in ogni caso prendi quella solo jack cioè personalmente se devi giocare al compito prendi quella solo jack così se hai una scheda audio te la godi di più tutto qui poi F4 by awesome quindi Fabio awesome credo ok ciao lisi è un grande grazie mille io ho una gtx 980 4790k e 16 GB di ram e non riesco a reggere gta 5 in full hd tutto oltra lagga ho installato tutti i driver secondo me è solo mal ottimizzato ma molti dicono il contrario tu cosa ne pensi ho anche una curiosità le mie ram sono 2133 megahertz posso farle girare a quella frequenza con il mio processore e la mobo z87 m4 si si se poi le hai overclockate tu perché non mi hai detto proprio il modello preciso se le overclockate tu e reggono reggono punto ok suppongo comunque che siano di di fabbrica 2133 quindi ha attivato il profilo XMP non ci sono problemi allora per quanto riguarda gta tutto tutto ultra io non ricordo se la 980 riesce a reggere gta tutto tutto ultra perché ci sono dei filtri che sono pesanti parecchio pesanti l'erba uno tra quei l'erba è pesante non quella che si fuma però dovreste abbassare un pochettino i dettagli ok in ogni caso malottimizzato si poteva fare di più per carità di dio però io penso che gta sia un ottimo esempio ottimo un esempio molto buono di ottimizzazione per un titolo così vasto così complesso così graficamente bello perché è un bel gioco cioè graficamente è molto bello io ritengo che sia un gioco ben ottimizzato davvero ben ottimizzato tu hai questo problema ok ma non sparare tutto ultra eccetera perché ci sono tra l'altro ci sono due tipi di impostazioni grafiche in gta se ben ricordo le impostazioni grafiche classiche tutta la sfilza di impostazioni e poi ci sono quelle avanzate che sono tipo lunghezza ombre eccetera eccetera quelle là per adesso toglile di mezzo ok prova prima a cercare l'equilibrio con con quelle là classiche ok e niente cioè poi valuta valuta tu cosa è preferisco che avere questo piuttosto che questo eccetera eccetera io per esempio con la mia beh la mia non è una 980 la mia è una 780 ho abbassato un pochettino un pochettino l'erba perché se ben ricordo tra medio basso medio alto e ultra adesso dovrebbero essere questi i valori non ricordo oppure era medio alto very high e ultra io ho messo high semplicemente perché l'erba si sta cioè si alza da terra esiste l'erba mentre se si mette su medio su basso adesso non ricordo qual è il valore minimo l'erba è piatta a terra lo step successivo invece l'alzava cioè c'erano i ciuffettini d'erba mi bastava così anche perché c'è chi è che si mette a guardare l'erba a terra voglio dire mi bastava quello non so fai un po' di prove anche perché là le impostazioni grafiche sono una cosa assurda assicurati di aver tolto il visi inc eccetera eccetera c'è queste cose che comunque non ti servono iniziamo da questi punti base ecco poi man mano magari metti tutto su very high e poi man mano very high cioè vabbè tu con la 980 tutto very high è proprio la base lo devi mettere poi man mano inizi a salire e vedi un pochettino che succede secondo me è un po' esagerato su qualcosa ecco poi paolo ciga ciao lì sfilzati eh per te ora senso comprare mobile cpu e gpu o conviene aspettare rimanendo senza pc fira quando esce sky lake non c'è risposta a questa domanda se ben ricordo comunque a domande simili ho già risposto in passato nei precedenti questioni perché ok lì io il computer uso sì per giocare ma comunque il pomeriggio magari me ne vado in palestra a giocare a calcetto faccio questo faccio quello a me cioè se sto senza pc non è che mi cambia granché allora va bene aspetta ti conviene magari aspettare ok se invece cazzo lì domani devo caricare il video o domani devo finire di lavorare oppure no a mio proprio giocare cioè quello è un mio hobby una mia passione stare vicino al computer che devo giocare devo ricloccare e capisci bene che forse magari non ce la fai ad aspettare ok quindi sa te la scelta cioè non ti serve oppure ok si il computer mi piace una passione uno sfizio eccetera però comunque ho tanti altri hobby tanti altri impegni cose da fare magari gli esami non lo so quindi magari lo utilizzerò poco aspetta cioè che senso ha comprare adesso e poi il periodo di esami quello che è e lo puoi utilizzare poco magari aspetta cioè non fa niente qualche giorno dici vabbè cacchio dai c'ho il computer che faccio me ne scendo ok no mi vedo un film no lo so qualsiasi altra cosa sa comunque a te la scelta io non te lo posso dire che non so la tua vita qual è valuta su questo ok poi omega com'è possibile che quando uso assassin's creed unity arkham origins e gta 5 la gpu va a un massimo di 80 gradi e in media 70 mentre con minecraft schizza 65 com'è possibile che un gioco come minecraft mi faccia andare la mia 970 a 65 68 gradi non me ne capacito potrei capire se la cpu si scaldasse visto che come hai detto è cpu bound o come si scrive no è scritto bene ma una 970 qualche volta e qualche volta mi lagga pure vabbè che ci gioco pochissimo l'unica volta è stato quando era arrivato un mio amico a casa mia e ho visto che la gpu raggiungeva quelle temperature ok voi sapete che io minecraft non sono assolutamente esperto quel coso è fatto tutto su java eccetera eccetera con tutte le mod e quant'altro quindi io sinceramente una cpu ci voglio una cpu potente lo so ma non so una gpu effettivamente che effetto possa avere su quel gioco quindi non ne sono assolutamente proprio sicuro però niente cioè partiamo già dal presupposto che per una 970 a 80 gradi non è che siano proprio pochi e le 970 anzi la serie 9 in generale non è che scalda proprio tantissimo quindi già mi preoccuperei di quello magari flusso d'aria al computer ci sono ventole ok tutto bello pulito messo in ordine cable management ok perché 80 gradi non è che siano proprio pochini ecco poi vabbè no per minecraft per il resto non lo so sinceramente non ti so aiutare però se ti arriva ad 80 gradi con quei giochi in minecraft se ti sa la temperatura probabilmente non è solo un problema di utilizzo ma magari è proprio anche un problema di temperatura in generale quant'è in idle c'è tutto a riposo accendi il computer lo lasci così 10 minuti un quarto d'ora senza fare nulla nemmeno muovere il mouse quant'è la la temperatura in idle iniziamo a valutare da quello perché se già lì le temperature di cpu e gpu sono alte vuol dire che c'è qualche problema in generale ok non hardware intendo proprio che mancano ventole in immissione ed estrazione magari non lo so hai smontato tu la 970 e hai cambiato dissipatore alla cpu e hai messo male la pasta termica non lo so qualsiasi cosa a questo punto può essere overclock per dire che non lo so hai fatto overclock e non me l'hai scritto perché non c'è scritto vabbè quanto stiamo 15 minuti voglio fa quarti ditto e lì io ed un mio amico avremmo intenzione di iniziare a fare un po' di programmazione ci sapresti consigliare dei software gratuiti vorremmo fare dei giochini per android per android tipo single player o anche delle utility app grazie lì non lo so non lo so perché la programmazione non è assolutamente una cosa che mi interessa e di cui mi informo quindi alzo le mani ragazzi se qualcuno di voi vuole rispondere risponda all'utente quarti ditto perché io non lo so cioè proprio io non lo so poi ok z hurricane z per il ragazzo che ha il problema con le shaders su minecraft forse non è dedicato ram al gioco quando avvi il launcher vai su edit profile ed in basso a sinistra dovrebbe esserci scritto scritto qua scritto come l'ho detto brutto mamma mia scritto 1g aumentalo fino a 4g e dovrebbe andare bene la shaders credo siano i dettagli di minecraft ok perfetto ragazzi se avete dei consigli in generale di giochi avete domande eccetera risposte così chiedo scusa risposte come ha fatto l'utente z hurricane z io le leggo non ci sono problemi e niente io non ho capito chi è il ragazzo degli shaders cioè non lo so invece di 1g metti 4g così ha detto l'utente io riporto pubblicamente quello che c'è scritto ricordiamoci di ciao lisi è un grande grazie mille volevo chiederti avevo intenzione di cambiare scheda video premetto che provengo da una gtx 750 volevo qualcosa di più potente che mi permette di giocare giochi più recenti in full hd almeno a dettagli alti non ad ultra con un frame rate di 60 il mio budget è di massimo 250 euro pensavo ad una gtx 960 o un r9 280 tu quale mi consigli come già detto prima la serie la 280 di di md sinceramente io prenderei quello poi di quale brand io pensavo di msi è buono si ma per md io consiglierei sapphire sinceramente poi volevo anche chiederti la ventola integrata da 200 mm del del ah hai mancato la h ecco perché non capito half 912 plus è possibile posizionarla sopra il case invece che davanti si io ce l'avevo quella è la ventola rossa che c'è sul davanti la prendi e la metti però non sopra c'è proprio fuori al case la puoi mettere anche all'interno e ci entra tranquillamente io l'ho anche montata così l'ho avuta montata anche in quel in quel modo tranquillamente sopra il case invece che davanti vabbè tu ho risposto sì premetto che quando si tratta di informatica voglio imparere da un esperto come te grazie mille grazie di tutte le risposte sei un grande grazie mille di nuovo ps vorrei consigliarti di giocare ad un mmorpg di nome tera fetovaran che consiglio a molti e che reputo molto bello ragazzi questi tipi di giochi mmorpg quant'è m ho detto quando ci si inizia a giocare uno ci si perde l'idea cioè ci passa le giornate i mesi senza che se ne rende conto quindi forse è meglio che ci sto lontano da giochissimo altrimenti niente più video sul canale mi dispiacerebbe guglielmo fa fa fadiga ok ciao lì volevo sapere la tua opinione su questa configurazione so che non è il top e volevo sapere da parte tua ha dato la mia inesperienza inesperienza nel campo a che livello ci troviamo e che giochi ci potrebbero girare bene aerocool v3x advance vabbè sapete aerocool cosa ne penso alimentatore lc power butta scheda madre asus a58 bla 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 scheda vdr9 280 tu hai messo una 280 con lc power no assolutamente no proprio no lc power ragazzi qualsiasi cosa c'è scritto lc power buttatela a prescindere amd x4 860k ram 4 giga hard disk 1 tera vd10 pur x perché hai preso un purple masterizzatore vabbè ti chiedo un'ultima cosa se ho un consiglio su un bel headset sotto i 100 euro grazie mille di aver letto tutto e continuo così perché sei super grazie mille grande lì sfilsa di è infinita grazie mille allora su che livello ci troviamo medio basso semplicemente perché la configurazione in sé la 280 si salva ma il resto sinceramente l'avrei cambiato soprattutto l'alimentatore c'è l'alimentatore proprio subito in ogni caso headset sotto i 100 euro provo a vedere le cave che ho recensito ultimamente di rockat però consiglio proprio personalissimo ok si è bello giocare con l'headset eccetera eccetera è molto più bello dipende ovviamente dall'impianto audio che ha però sinceramente risparmia lì quei 100 euro e prova a cambiare l'addo tanto ok tienila tieni anche il il purple di di cazzo si chiama di western digital il case non lo conosco ma magari se è bello spazioso tienilo però ram alimentatore scheda madre e cpu cambia cerca di prendere qualcosa di di nuovo che cosa ci potrebbe girare bene diciamo tutto bene ma semplicemente perché metti gta e abbassi i dettagli e risoluzione per dire ok quindi bene un po' tutto poi dipende da che cosa vuoi che per bene puoi intendere ok ci giro bene faccio 60 fps però che risoluzione e dettagli però faccio 60 fps comunque ci gira bene quindi c'è un po' da valutare questo però in ogni caso io risparmierei quei soldi per l'headset cioè io perlomeno farei farei così cioè perché sì o poi dopo con 100 euro un bel headset qualcosa di bello essendo però poi magari non ti riesci a godere a meglio i titoli non lo so ne vale la pena sinceramente ti ripeto li risparmierei poi esofix 4684 ciao lì sei un grande grazie mille non dire che non è vero no no non ho mai detto un grande che non è vero sì ho 25 sono vecchio quindi vorrei un consiglio su questa configurazione asrock extreme x99 6ac asus rog sonar febus gtx 980 58 20k cover black sì cover black vector 150 480 giga corsair ddr4 16 giga cooler master 850 watt v series h110i cosmos 2 va bene una configurazione di esagerata sì tranne per esempio cuffie eccetera eccetera della mudguts avrei mouse avrei preso altro sinceramente per esempio corsair ma va bene ventole le industrial unità ottica non ha senso basta termica mx4 vabbè sì la configurazione è mostruosa non credo sia una configurazione reale ma è mostruosa vector avrei preso magari il 180 vabbè il cosmos non è esagerato tastiera mouse cuffie eccetera avrei preso probabilmente qualcosa di forse le cuffie no forse le cuffie tastiera e mouse di corsa era l'avrei preso microfono ah si aveva anche il microfono blue yeti pro vabbè il blue yeti il pro non è che ci sia tutta questa differenza dallo yeti normale ce l'ha un amico ma si sentiva benissimo anche con lo yeti normalissimo tutto inissimo finisce qua sì è un mostro l'alimentatore forse è un po' sovradimensionato perché io fondamentalmente ho una configurazione simile 5820k e ho una 780 e consuma di più e ci ho ottenuto tutto con un 750 watt e ho overclockato anche la cpu quindi voglio dire non è che ci sia bisogno di tutto sto st'alimentatore ecco in ogni caso la serie B di cooler master è un'ottima serie quindi sì se avessi soldi l'avrei presa anch'io forse non proprio così avrei cambiato giusto qualcosina però va benissimo ripeto qualcosina come esempio mouse tastiera queste cose però io non credo sia più una configurazione sfizia ok se avessi soldi è buona questa cosa sì è ottimo è un mostro di configurazione per carità di dio Francesco Mocavino ciao lì ho trovato un Logitech Driving Force X usato a 30 euro un buon volante non lo conosco non sono riuscito a trovare recensioni o di informazioni online dopo tutto a 8 mamma mia 8 anni anche se quel che ho trovato in teoria è stato usato 3 volte e messo da parte grazie io non sono manco sicuro che poi funziona con i simulatori attuali sinceramente non lo so assolutamente sinceramente ti consiglierei di non comprarlo però magari 30 euro lo prendi 30 euro non è che so chissà che cosa ovviamente io non conosco la situazione economica delle persone a cui rispondo quindi non lo so però 30 euro credo che non buttino per strada a nessuno ok quanto siamo 25 minuti comunque non conosco assolutamente il volante marioville si la mia question si la mia domanda si riferiva se il dissipatore H100i entrava nel case X Predator X3 ripeto io ho cercato su internet ma non ho trovato molto non ricordo questa domanda cioè ricordo l'utente marioville ma non mi ricordo precisamente questa domanda chiedo scusa poi non ho capito se la scheda madre ha il wifi integrato perché ho letto che separa la connessione sia per i giochi che per i programmi credo che sia quello col cavo comunque se non dispone di wifi che mi consigli come scheda wifi una TP-Link ma così a caso ho scritto la lista dei componenti per aiutarti a ricordare Z97 Gaming 5 ah no vabbè se questo è il mio del scheda madre no non l'ha perché se ben ricordo c'è scritto AC o ACK comunque per quelle che hanno la connessione ACK dovrebbe essere col chip killer se ben ricordo AC o ACK comunque per indicare i modelli che hanno la connessione anche tramite la connessione wireless la connessione wifi ok non vorrei dire una sondata scrivi Z97 Gaming 5 il studio dell'MSI sicuramente ci sarà la is connessione cavo bla 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 questa connessione wifi magari ci sarà il trattino la slash per indicarti che non giusta ok poi 4690k Hydro Series H100i vabbè quello di cui parlavi prima Corsair 8GB non mi ha detto il modello MSI 970 cooler master alimentatore elettrico 650W non c'è il modello Seagate 1000G vabbè 1TB il Samsung 120GB all'850EV valuta l'ARC e il case l'X-Predator X3 ragazzi io non lo so se c'entra l'H100i nell'X-Predator X3 lo sapete io con Aerocool non ci ho mai avuto a che fare non solo per quanto riguarda le collaborazioni ma personalmente non mi è mai capitato di avere a che fare con un case dell'Aerocool non mi ci sono mai nemmeno informato quindi sinceramente io non lo so cioè se vuoi magari ricordamolo scrivimi un messaggio su Facebook su YouTube ecco lì sono Mario quello del case Aerocool con l'H100i che poi credo che tu ancora non l'abbia comprato lì mi dai una mano per esempio a cercare perché adesso una volta fatto il question me ne dimenticherò sicuramente perché mi metto là lo metto a renderizzare eccetera eccetera e niente cioè renderizzare sapete metto il finale l'intro e il finale la sfocatura sistema un attimino i colori perché da qua cioè io mi vedo verde sono Urk ok Urk Spack ok niente 28 minuti facciamo fare un altro paio Frank Chiari ciao lì sei un grande grazie mille volevo chiederti che lavoro fai e se riuscissi a fare qualche tutorial sulle tue competenze informatiche che penso siano molto vaste un abbraccione un abbraccio anche a te carissimo che lavoro fai un cazzo sto su YouTube fondamentalmente con quel nulla che ci guadagno però sto su YouTube e se riuscissi a fare qualche tutorial sulle tue competenze informatiche io non ho capito tu che cosa intendi per tutorial sulle competenze informatiche del tipo come si formatta come si assembla come si fa questo e quello ci sono 200 video che parlano di questo sul canale ultimamente ci sono i tutorial non ne ho fatti ultimamente ci sono quindi unboxing question, gameplay eccetera ma se vai a vedere le mie playlist vai sul canale dovrebbe esserci iscritto home page informazioni playlist più di 80 90 quasi 100 tutorial ormai credo su Windows sul sistema operativo come si fanno ottimizzare velocizzare come si fanno determinate cose ride un sacco di cose ok driver davvero tante cose ci sono i video per assemblare un pc cioè come come si assembla un pc e tutti i suggerimenti tutte quelle chicche che nessuno o pochi anzi conoscono sulle rame eccetera tante chicche che poche persone conoscono e anche per quanto riguarda l'impianto l'impianto a liquido fateci vedere come si assembla un impianto a liquido perché comunque è differente rispetto ad utilizzare un all in one o un dissipatore ad aria solamente faccio vedere il montaggio ok i tubi come si riempie il test che bisogna fare per evitare che perde c'è un po' di cose ci sono trovate tante cose veramente quindi ti consiglio di andare a vedere poi se avevi delle altre cose in più c'è un tutorial sulle mie competenze informatiche non saprei nemmeno farlo perché io non so quello che so effettivamente perché c'è man mano mi fai una domanda magari una cosa in cui ragazzi io so assemblare un computer so assemblare un impianto a liquido so fare questo questo e quello lì sai fare quest'altro io adesso non ve l'ho detto ma non è detto che quest'altro non lo sappia fare semplicemente perché non ci ho pensato le conoscenze uno le tira fuori quando ne ha bisogno tipo mo mi chiedi ok mo no lì tu come fai per esempio ad accendere lo schermo non ce l'avevo pensato io per esempio clicco là cioè passo il dito vicino visto che è touch ma è una cazza d'assurdo ho detto ok quindi magari è meglio fare delle domande poi facciamo l'ultima dai Paolo Testa ciao lipo potresti dirmi se questa configurazione da gaming no overclock va bene vorrei giocare a 1080p dettagli almeno alti 4690 Asrock Fatality H97 Killer Vengeance 2x4 quindi 8GB Gigabyte 970 Arc 100 Caver Bluntair XFX 50 AF 912 Plus PS se il numero 1 di Youtube grazie mille non è vero va benissimo va assolutamente bene una configurazione bella semplice pulita tranquilla tappos forse un paio di ventole un paio di noctua ok giusto per dare un po' di immissione magari un'immissione un'espulsione vabbè che l'AF 912 Plus già c'ha quella davanti che immette quindi magari una in espulsione no 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 c'è una stonzata che già ne ha una in espulsione ho detto proprio una cazzata mai vista sì perché l'AF quando l'ho ricevuto cioè l'eventola è la prima cosa che ho tolto per poi rimetterle e cambiarle lasciamo perdere no dovrebbe averne una frontale e una sì in espulsione la grossa da 200 mm frontale quella dietro di colore nero in espulsione dovrebbe avere quindi no diciamo che magari la vuoi cambiare con una noctua non lo so oppure vuoi spostare quella frontale la metti sopra quindi c'hai due in espulsione e davanti metti magari due noctua ne prendi un'altra magari sempre di Cooler Master così giusto giusto per ma va benissimo comunque va tutto tutto bene sì tutto a posto ragazzi sono quasi 32 minuti io direi che il question li può finire qui spero vi sia piaciuto spero vi sia stato utile hashtag questioni giugno come è di fatemi tutte le domande che volete niente noi ci becchiamo al prossimo video bye bye I'm Batman ma come ho detto male what you I'm Batman film what you bye bye I'm Batman I'm Batman